Scatta dal prossimo 30 giugno l'obbligo per tutti i liberi professionisti di dotarsi di post per permettere ai propri clienti il pagamento tramite banco matocarta di credito. Un provvedimento teso a promuovere l'abitudine di ricorrere alla moneta elettronica e aumentare di conseguenza la tracciabilità dei pagamenti, che però rischia di creare qualche problema, soprattutto a chi fornisce servizi a domicilio, come le manutenzioni. C'è una problematica non risolta dalla norma sollevata da Confartigianato per le attività mobili. Il cosiddetto elettricista installatore idraulico che ci fa un lavoro di reparazione, ad esempio, presso il nostro domicilio, in quel caso per lavori sopra i 30 euro il cittadino potrebbe richiedere per con suo diritto il pagamento tramite POS. Qui c'è un problema per l'impresa che dovrebbe essere dotata di sistema telematico di POS, quindi con costi bancari onestamente onerosi. Come tutti i commercianti, professionisti e artigiani, anche chi ha un'attività per così dire mobile dovrà dunque dotarsi di POS per pagamenti d'importo superiori a 30 euro. Noi abbiamo chiesto un esonoro per questa attività perché immaginiamoci un elettricista che abbia 4-5 mezzi fuori ogni giorno dovrebbe dotare ogni utente di termine le POS, quindi i costi aumenterebbero notevolmente e quindi anche il costo conseguente della riparazione. Quindi alcune attività, riteniamo mobile, dovrebbero essere escluse prevedendo il pagamento POS o tramite la sede legale oppure il classico lesonoro anche sopra i 30 euro. Si valuterà se il governo è in grado di dare questa, chiamiamola grazia, alle piccole imprese.